Prefetti questori e vertici delle forze dell'ordine di pescare chieti tutti intorno a un tavolo nel capoluogo in riva al mare per attuare strategie anticrimine. Certo l'assalto alla Sicuritalia Ivri di giovedì scorso a San Buceto, 6 milioni di bottino con mando armato in fuga, impone contromisure forti. Ma il summit è stato più che altro per stringere le maglie sull'illegalità sommersa, che si nasconde anche nelle pieghe di una movida talvolta violenta, nel piccolo ma ben dannoso spaccio, nelle frodie e in tutto quel sottobosco che inquina l'area metropolitana, che adesso più che mai fa gola all'illegalità nostrana e nonno. Che città è Pescara in questo momento sul tema infiltrazioni? Ma io non enfatizzerai l'argomento, non è anche una sottovalutazione, ovviamente è un territorio che potrebbe essere esposto, del resto negli ultimi mesi abbiamo fatto due interdittive antimafia, ecco l'importante è mantenere alta l'attenzione. Questa sinergia nuova tra Pescara e Chieti riguarda anche il controllo dei tanti fondi che arriveranno, grazie al PNRR, alla zona ZES, eccetera. Temete aggressioni, tra virgolette, sotto questo punto di vista? Sì, lavoriamo su diversi aspetti, ci siamo confrontati su temi come la sicurezza urbana, come anche su quello del rafforzamento della cooperazione tra diverse forze di polizia, sulla capacità di intervento e ovviamente anche quelle sulle strategie per prevenire infiltrazione. Come dicevo prima, non ci sono più paradisi, ma l'importante è alzare sempre più la barriera a tutela della legalità. Grazie.